Amici, Clé di Cadio svela, ecco perché ho lasciato il talent. Amici è uno dei programmi più seguiti di Canale 5, e di conseguenza i telespettatori seguono sempre con interesse, l'avvicendarsi dei vari insegnanti o giudici. Clé di Cadio, insegnante di ballo, era uno dei più amati in assoluto, ma da diversi anni non fa più parte del talent. Ora, nel corso di un'intervista, lui stesso ha parlato dell'argomento, svelando perché ha deciso di lasciare la cattedra di ballo. Amici, Clé di Cadio in un'intervista, ecco perché sono andato via. Amici continua ogni anno e, annualmente, i professori cambiano o vanno via. Diversi anni fa, Clé di Cadio ha fatto la stessa scelta, dopo aver conquistato il pubblico con la sua professionalità. Il celebre ballerino di origini albanesi ha abbandonato il ruolo di insegnante ma, sporadicamente, si è comunque recato in trasmissione, per fare il giudice delle gare o in qualità di ospite. Molti telespettatori si sono chiesti per quale motivo Clé di abbia rinunciato alla sua cattedra di ballo. E si sono moltiplicate delle indiscrezioni secondo cui la sua scelta sarebbe avvenuta dopo un grave scontro avvenuto con Maria De Filippi. Per evitare l'ulteriore diffondersi di false notizie, il ballerino ha preso la parola in un'intervista, spiegando le ragioni del suo abbandono. Cadio ci ha innanzitutto tenuto a sottolineare che non c'è stato alcun litigio con la De Filippi, né problemi di nessun genere con lei. Le motivazioni dell'abbandono sono esclusivamente legate a ragioni logistiche. Infatti, Clé di ha spiegato di aver cambiato città per ragioni personali, e quindi gestire quotidianamente il programma che si trova a Roma, per lui sarebbe molto complicato. Non può viaggiare ogni giorno per stare con i suoi allievi, e al contempo non può lasciare la sua famiglia, quindi l'unica possibilità che ha, è quella di andare occasionalmente in qualità di ospite. Un problema solo pratico, quindi, che nulla ha a che fare con Maria. Amici, che cosa fa adesso Clé di Cadio? Clé di Cadio, dunque, ha deciso di non prendere più parte ad amici, ma ovviamente non ha affatto lasciato il suo lavoro. Ogni tanto Clé di compare in alcune trasmissioni televisive, per esempio diversi anni fa ha preso parte a Pequenos Gigantes. E è stato anche il giudice della Just Dance World Chap. Ad oggi continua ad occuparsi di danza, gestendo scuole di ballo, organizzando corsi e cercando nuovi talenti, da immettere in quel mondo. Quindi, non si può certo dire che Clé di sia fermo, nonostante alcuni problemi personali, che l'hanno colpito. Sposato con l'insegnante di yoga Charlotte Lazzari dal 2018, i due hanno avuto un bambino nel 2021, che purtroppo ha avuto seri problemi di salute, dopo soli 13 giorni dalla nascita. Infatti ha avuto una meningoa encefalite, che ha richiesto lunghe cure, ed un ricovero in terapia intensiva. Non è stato semplice occuparsi di questo problema di salute del bambino, ma per fortuna ora è tutto superato. Voi che cosa ne pensate? Vi dispiace non vedere più Clé di Cadio ad amici, ed immaginavate fossero questi i motivi del suo allontanamento dal talent? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie per la visione!